Sono contento perché è stata una bella partita, una bella cornice di pubblico, un pubblico di altre categorie, sia quelli che ci hanno seguito dopo un sacco che questi qui di Castelnuovo. Un po' di rammarico poi in fondo c'è perché penso che anche prima dell'1-0 abbiamo finito il primo tempo sotto immeritatamente, abbiamo avuto 3-4 palle davvero importanti per fare gol, dove il loro portiere ha fatto davvero degli interventi prodigiosi. Poi non è mai facile, finisce il tempo, sei sotto, invece i ragazzi sono stati bravi perché hanno avuto una grande reazione, abbiamo sempre avuto il pallino del gioco in mano e poi abbiamo rischiato anche di vincere. Quindi dai, sono contento così e quindi lo spirito di questa squadra lo sta acquisendo partita dopo partita ed è quello che poi ci farà fare la differenza perché i valori tecnici nostri sono superiori alla media di questa categoria e quindi se ci mettiamo dentro anche lo spirito io credo che siamo un pezzo avanti. Certamente un campo dove limitava molto la tecnica della squadra Ponzacchina, i due nuovi acquisti Pieroni e Balessi, quest'ultimo il gol del pareggio, anche lui un guerriero che si aggiunge a questa squadra. Sicuramente ci daranno una mano per arrivare ai nostri obiettivi, anche il ragazzino lì ci ha fatto benino, quindi se non abbiamo cambiato qualcosa è perché abbiamo pensato che potesse darci qualcosina in più, sono giocatori di esperienza e quindi adesso siamo anche un pochettino più completi anche in ogni reparto perché davanti finora abbiamo sempre avuto solamente Breghe e Granito ed è impensabile che potessero arrivare a fine stagione facendo tutte le partite. Poi tra l'altro adesso abbiamo anche questo impegno di mercoledì di Coppa a cui teniamo particolarmente, quindi sono pedine fondamentali che la società mi ha messo a disposizione e questo è il sintomo di un grande presidente, di una grande società che sta facendo di tutto per regalare a Ponsacco le categorie che merita. L'ultima battuta era rigore o no su Granito? Guarda io sinceramente l'ho visto da una posizione dopo l'espulsione e sinceramente non lo so, mi dicono di sì, però ormai è andata così e andiamo avanti.